Arrivando a parlare delle regionali, lei ha detto che la vostra lista sarà fondamentale per la vittoria del candidato presidente D'Amato. Sì, perché lui vincerà esattamente dal risultato che faremo noi, ma insomma anche altri rivendicheranno questo, noi lo rivendichiamo da noi. Per noi non era un appoggio scontato, però c'è il candidato giusto, la coalizione ampia ma in grado di trovare unità, perché bisogna vincere e bisogna governare. E' quello che noi abbiamo sempre sostenuto, che col Movimento 5 Stelle non vinci, ma anche se poi dovessi vincere non riesci a governare. Avete chiesto un uomo della squadra, sarà il prossimo assessore del mare? Noi non abbiamo chiesto niente, ma sappiamo che D'Amato saprà riconoscere le capacità, la visione e quindi siamo certi che ci sarà uno spazio di governo. Noi lo sosteniamo perché lui vinca, perché governi e vogliamo poi aiutarlo a governare anche concretamente.